carissimi amici buongiorno oggi la festa inizia molto bene come vedete qua tantissimi regali però un regalo molto speciale che voglio aprire oggi con voi e con facendo questo video e questo regalo vediamo tutti insieme che cosa sia ecco questo che vedete qui andiamo vediamo che cosa c'è lì dentro un bellissimo regalo che cosa c'è dentro questo regalo andiamo a vedere non so se sarà facile aprire perché è molto molto sigillato si girato così bene vediamo primo sigillo mi sembra che sono quei sette sigilli della vocalisse vediamo primo sigillo non un velo sentito Mamma mia! Allora, che cosa c'è di dentro? Mamma mia! Primos? 25 aprile 2020, Don Dionico caro, tantissimi, tanti, tanti, tantissimi auguri per questo tuo primo compreanno vissuto qui a San Pio X di Grotta Ferata. E che compreanno? Come ti senti da neotrentenne? In quarantena? A parte di scherzi, ti auguriamo con tutto il cuore di vivere intensamente e con gioia il tuo cammino spirituale e pastorale nella nostra comunità. Dio ti benedica e ti doni sempre forza, carisma e coraggio con affetto Federico e Alessandra. Grazie Federico e Alessandra, un abbraccio virtuale. Grazie. Allora, facciamo così per più semplice. 25 aprile 2020, un sorriso sempre, per tutti un cuore grande e generoso, un ottimo guida spirituale, buon compleanno da Rita Zampini, che il Signore illumini sempre la tua vita. Grazie Rita, grazie tantissimo, grazie. Un abbraccio anche a te. Quando il mondo gira nel verso giusto, cose buone accadono. Ah, e per le persone buone? E tu sei decisamente una persona buona. Buon compleanno. da Andre e di Macca. Grazie tanto, Andre e di Macca. Grazie a tutti. Come da Andre Doce e faccio così andiamo. Ma, non sarà nello? E la loro con ti viene o che lo ha detto a te mi ha年simo? Con ti viene più o che è? Un pezzo andato. E che staiở per le quali con la? non mi ha fatto questo sorpreso perché ne ha mancato il primo aprile non mi ha fatto allora grazie di cuore mi ha fatto cercare molto felicente soggiorno speciale tanti anni di vita molta saggezza e pace nella tua vita presa dotare auguri da Edoardo grazie mille Edoardo un abbraccio meravigliare donio amico un carissimo infinito augurio per il tuo compleanno sarà per te un giorno speciale colmo di affetto e gioia in un nome di preghiera forza Armanda grazie forza Armanda una preghiera un abbraccio carissimo e bellissimo donio amico in amore Stefano e Dio pur in domicilio quarto non vogliamo farti mancare per il tuo prossimo compleanno i nostri migliori veramente affettuosi auguri tu non puoi ricordarti di noi ma noi ti stimiamo tantissimo e il tuo perfetto italiano ci fa apprezzare i tuoi bellissimi sermoni speriamo quanto prima di poter presto riascordarti un abbraccio fraterno Stefano e Romano cazzola grazie Stefano e Romano grazie di cuore un abbraccio caro don demico in questo giorno di festa per il tuo compleanno vogliamo esprimerti la gioia traverti tra noi come dice Padro ci avvicini al Signore con i voiloni i profondi pensieri delle sue omerie la tua televisa e le note del tuo canto che condividi con noi tanti cari auguri Pier Giorgio e Lidia un abbraccio caro don demico il tempo e l'amore non vanno d'accordo sono 8 mesi che sei con noi e io ti voglio bene come se ti conoscessi da anni mi dispiace non poter abbracciare ma gli auguri te ne posso fare tanti tanti Mareva un abbraccio quando ero più giovane tanti auguri di buon confiandolo non sarei un nome ma sei davvero unico il nome è rifatto un abbraccio vitale ancora per poco Valentina grazie vale un abbraccio avec le beau dieu je souhaite en ce jour c'è ce jour que donc avec le bon dieu je te souhaite en ce jour crea l'affet della visua tu che ti ha visto a tu tu non ti do io gioia di angela grazie ma angela grazie di cuore un abbraccio tanti auguri al nostro amico che lo festeggia con gioia e aspetto da tutti noi da Giovanni grazie Giovanni un abbraccio un abbraccio a tutti voi c'è un abbraccio che un abbraccio una letterina prevedendo don genico la giorno del compreanno siamo soliti dire un altro anno che è passato come per affermare più o meno scherzosamente che si sta camminando verso la vecchiaia questo è vero anche O Dio, è pur sempre una realtà, ma io sono contento che sia più opportuno scoprire ciò che si è realizzato nell'anno che è passato. L'azione di un sociodote che si dedica completamente, scusatemi per l'accento anche, alla diffusione della parola di Dio come opera di salvezza, alla formazione umana e cristiana dei ragazzi e dei giovani, che vive personalmente secondo le indicazioni del Vangelo e rappresenta in prima linea Gesù Cristo. Credo che sia la più concreta storia di un anno passato e l'augurio che l'opera possa continuare sempre, contando impegno, vedendo l'ogni amico e l'augurio più sincero che io possa fare, pregando il Signore che sia presente con la sua grazia per concedere salute, forse a curate e anche tante soddisfazioni. Auguri, favello Antonio. La te va dando un abbraccio a te. Che bello. Caro don Genico, se purtroppo ci siamo frequentati per poco tempo, l'amici te rimane, nessuno potrà cancellarla e restiamo sempre uniti nello spinto. Con tutto il cuore ti deniamo il passo che Gesù ci ha dato per te. E tu prescrivi queste cose e insegna le. Nessuno gli spetti la tua giovane età, ma ti dimentico ai sederi nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza. In attesa del mio arrivo, dedicati alla lettura, all'esaltazione e all'insegnamento. Non trascurare il dono che invece ti è stato conferito mediante una valora propetica, con l'imposizione delle mani da parte dei presbiteri. Apri cura di queste cose, dedicati ad esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso. Decida su te stesso e sul tuo insegnamento, e si persevera, così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Ti vogliamo bene, con tanto affetto, ti auguriamo, buon compleanno. Mario e Rosalda. Grazie Mario e Rosalda, un abbraccio a voi. Dio ci ha regalato un amico come Don Genico. Dio ci ha regalato un amico come Don Genico. In questo periodo così atipico, vi faccio un augurio magnifico, tantissimi auguri Don Genico. Grazie di tutto. Romano, grazie Romano, un abbraccio. Siamo più veloce, più fuori, così a vedere più, ma a vedere più veloce. Siamo per perdere il suo. Don Genico, buongiorno, auguri. Sei un dono prezioso per la nostra commenta parrocchiale. Ti vogliamo tanto bene, ti auguriamo, buon compleanno, un abbraccio a Rita e a Chietro la Rosa. Grazie a Rita e a Chietro, un abbraccio. Grazie. Caro Don Genico, oggi è un giorno importante, è festa nazionale, ma soprattutto è il tuo compleanno. Sicuramente è diverso. Capitato in un momento particolare e difficile da affrontare. Nonostante tutto questo sarà un giorno speciale, perché arricchito e impreziosito dall'affetto delle persone a tecare di tutti noi, del gruppo. Nell'attesa di poter festeggiare tutti insieme, ti auguro con tutto il cuore un compleanno sereno e ricco di emozioni, veramente ricco, ricchissimo di emozioni. Ti porto nelle mie preghiere un affetto, Silvia. Grazie Silvia, un abbraccio. Caro Don Genico, sarebbe stato bello festeggiare tutti insieme questo compleanno. Magari davanti a una bella torta e dei semplici pasticili, ed invece siamo costretti a vivere volenti o non questo deserto. Ad ogni modo, la distanza non affievolisce il vero affetto, ma mi rende solo più visibile il valore. E io, di valore, in te non ne ho trovato moltissimo, fin dal tuo momento in cui hai messo piede a famicchio decimo. Insomma, la faccio beve, anche se non è da me. Sì, in attesa di vederci al più presto, ti faccio a nome mio e a nome della mia famiglia i più valorosi auguri di un felice compleanno. E ti mando un caro abbraccio, Cristina e famiglia. Grazie, Cristina e famiglia. A tua famiglia, a Francesco, a tutti i tuoi padre. Grazie, grazie di cuore, un abbraccio. Ciao Don, tanti auguri di buon compleanno. Grazie di essere entrato nel nostro gruppo e ancora di più nelle nostre vite. Nonostante la tua giovanità, sei una persona meravigliosa. Solare, continuo sempre a sfruttare il tuo carisma. Esercitati con la pitarra che quando tutto questo finisce faremo una bella suonata. Vediamo a sentire il signore e continua a darti la forza di sopportarci. E sopportarci. Buon compleanno, Francesco e Veronia. Grazie a Vangelo Suo, grazie a Veronia, un abbraccio a tutti voi. Speriamo di poter suonare veramente insieme una bella suonata. Grazie di cuore. Carissimo, son genio, quando ti ho visto la prima volta, piccolina, più giovane di quello che sei, sono comunque tante, non lo dimenticare. Chi mi dopo ha pensato, speriamo bene cosa mai potrà fare di dire questo, pretina. E invece siamo un girante, di propondità di animo, di simpatia, di voglia di fare. Le tue amorie lasciano il segno, la confezione pure. E non dimentichiamo la città del canto. Grazie per la rentata di festezza che hai portato nella nostra comunità. Prego il signore di colmarti della sua benedizione e del suo amore, così che tu possa trasmetterlo a quanti incontri nel tuo cammino. Buon compleanno e con tanto affetto. Rita, la tua mamma della parrocchia e anche papà Luciano. Ma grazie, Rita, grazie Luciano. Un abbraccio virtuale a tutti voi, grazie. Allo sconso di Twitter, Don Genico, gli auguri più belli per i tuoi 30 anni, che il signore possa dimorare sempre il tuo cuore e illuminare tutti i tuoi passi. Con affetto, Doriana e Danilo. Grazie, Doriana, un abbraccio a Danilo e a te. Grazie, Anto, grazie di cuore. Auguri, Don Genico, quant'è arrivata in parrocchia la generazione? Venti, grazie per le tue idee nuove. Daniela, grazie, un abbraccio a te. Daniela, grazie di cuore. Carissimo Don Genico, i giorni in cui siamo venuti alla luce vanno festeggiati soprattutto quando si trovi persone speciali come te. Ti auguriamo un buon compleanno, le scuole di Santa Caterina. Grazie, carissime parelle, grazie. Grazie di tutto, grazie di cuore. Dio sta, Dio sta stupirci. Te lo lasciamo fare. Con il tuo arrivo un po' ci è riuscito. Buon compleanno e buon proseguimento tra noi. Loredana, grazie di cuore. Grazie, Loredana, un abbraccio virtuale. Grazie. Aprire. Giovanni Vandia Pera, auguri. Marizia e Paolo. Grazie Marizia e Paolo, un abbraccio a tutti voi, grazie per il vostro affetto. Doro di sé, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi, se siete amici, se farete ciò che io vi domando, non vi chiamatevi servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici. Perché tutto ciò che ho udito dal padre vi ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate qualche frutto e il vostro frutto rimanga. Giovanni 15, 13, a 13. L'amicizia e asporto è serietà. È tanto, tanto, tanto affetto. Ci vogliamo tanto bene e ti auguriamo un felice. Quante anni? Paola e... Grazie Paolo, un abbraccio a tutti voi, un abbraccio. Di cuore vi ringrazio. E dire, di una sorte che così ti si accanisce. Certo, le previsioni non vanno sempre lisce. E tu, che tra noi appena, appena sei arrivato, in mezzo a pranzi, cene e bagli, subito ti sei trovato. Il santo padrone è natale a festeggiare, la santa famiglia è in palnevale e te lo vuoi dimenticare? Se è così, di sicuro l'avrai pensato. Magari dopo il parroco, anzi, sarà beniamente festeggiato? Purtroppo, la previsione non ha fatto centro e il corona suddola ci tiene tutto dentro. Ma il virus non la potrà conto tutti quanti, uniti col pensiero, per gli auguri, tanti, tanti. E alla fine, l'amico caro non è sempre occupato, perché il festeggianto e il pranzo è solo rinviato. Con aspetto, Fiorella, Emanuela e Silvano. Grazie di cuore, Fiorella, Emanuela e Silvano. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti voi. Grazie. Carissimo Don Genico, tantissimi auguri di buon compleanno. Ti mando un saluto, non solo di risuare, ma anche virtuoso, perché accompagnato dalla mia preghiera in questo giorno, così importante, anche se così diverso. Grazie per quello che sei. Un grande abbraccio e tanti auguri. Sor per la Vec. Grazie, Sor bella Vec. Grazie di cuore, un abbraccio a te. Tanti auguri di un demico che è diventato amico e sta a sta persona buona del cuore, che il giorno lo deve passare con tanto amore. Buon compleanno, Daniela e vita. Grazie di cuore, un abbraccio anche a te, Daniela. Andate in tutti i luoghi e programate il Vangelo, la ogni creatura, Marco 15-16. Grazie tanto per il dono che ci fai della tua vita in mezzo a noi, nonostante le difficoltà e i problemi che sorgono. Buon compleanno, Fabio. Grazie Fabio, un abbraccio a te. Ma davvero? Sto, si vede? Grazie di cuore a tutti voi, un abbraccio e grazie per tanta... Tanto affetto a tutti voi. Grazie per tutti questi messaggi che vedete qui. Non so se ci riesco a farvi vederli tutti. Eccoli qua. Grazie per tutto questo. Grazie di cuore. Grazie per tutto questo gesto che avete manifestato. Vi ringrazio di cuore. Mi sento una persona molto, molto speciale. E vi abbraccio tutti. Grazie di cuore. Adesso è tempo di rimettere questo tesoro a posto. Sicuramente non saranno piegati come l'avete fatto, ma comunque li conserverò. Grazie a tutti. Grazie. 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 Spero che ho messo tutto, e si gira, ti lascio, ma vabbè, sono tutti qui, fa parte del tesoro ma li posso lasciare fuori. Sono parte del tesoro, quindi vanno anche messi dentro. Ho messo tutto, adesso ecco qua. Allora, grazie. Grazie.